La polizia locale di Loano ricorda che dal 1 marzo 2023 entrano in vigore i nuovi orari dei parcheggi a pagamento. Dalle 8 alle 23, tutti i giorni, compresi festivi, per la tariffa ordinaria e dalle 8 alle 20, tutti i giorni, compresi festivi, per le tariffe agevolate residenti, lavoratori e partita IVA. Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico in comune. Grazie a tutti.